La prego, ve l'è la parola. Grazie, grazie Presidente. Io ero già intervenuto ieri nella discussione generale sul DEF. Ritorno oggi a parlare, evidentemente, come abbiamo già visto dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, l'argomento oggi non è il DEF in senso stretto. L'intervento è l'elefante nella stanza, quello che è accaduto ieri pomeriggio. Allora, io vengo da una terra di gente che è abituata a lavorare in silenzio per la maggior parte e a chiedere scusa quando sbaglia, assumersi le responsabilità quando sbaglia. E senz'altro, io ritengo che sia giusto cominciare da questo, perché io credo che noi dobbiamo assumersi la responsabilità di quello che è successo ieri. E noi dobbiamo, come Fratelli d'Italia, innanzitutto chiedere perdono ai nostri elettori se oggi, ieri sera, oggi abbiamo prestato il fianco a chi, nell'opposizione, a chi sui giornali ci attacca, a chi ci vuole dipingere come irresponsabili, impreparati, incapaci. Noi, ieri eravamo qui, non eravamo a casa. Non eravamo a casa, anche all'onorevole Pagano. Qua non c'era nessuno a spasso. Noi, grazie Presidente, noi ieri eravamo presenti in aula, avevamo cinque assenti come Fratelli d'Italia, la maggior parte, la maggior parte, la maggior parte per ragioni di salute, la maggior parte per ragioni di salute... Allora, noi eravamo presenti ieri in aula, avevamo cinque assenti non giustificati, diciamo, non in missione come Fratelli d'Italia, la maggior parte della quale per ragioni di malattia purtroppo. Ma detto questo, ripeto, noi ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità, dobbiamo chiedere scusa se abbiamo prestato il fianco a questi attacchi strumentali, ai nostri elettori, dobbiamo chiedere scusa al Governo, chiedere scusa al Governo perché sta lavorando bene, sta lavorando al di sopra delle aspettative e soprattutto delle prospettive catastrofiche dipinte nei mesi di campagna elettorale dall'attuale opposizione. Dobbiamo chiedere scusa, io personalmente mi sento di dover chiedere scusa, al Presidente Meloni, la quale in questi anni, non in questi mesi, in questi anni a noi di Fratelli d'Italia ha dato sempre un esempio di umiltà, di serietà, di lavoro costante e se noi ieri, anche se per poco non ci siamo dimostrati all'altezza di questo esempio, dobbiamo chiedere scusa anche a lei. Su questo io non faccio sconti a nessuno e chi parla, guardate, su mille votazioni che abbiamo fatte ne ho mancate due, quindi non credo di accettare lezioni da nessuno. Detto questo, ovviamente il nostro lavoro non è solo essere presenti, il nostro lavoro è quello che facciamo, è quello che portiamo a casa per gli italiani, questo noi ne siamo assolutamente consapevoli, ma come dicevo, ieri abbiamo dato un cattivo esempio, la politica è dare l'esempio, noi ieri abbiamo mancato nel dare questo esempio. Detto questo però, cospargerci il capo di cena, io non voglio addentrarmi nelle tante citazioni e metafore bibliche che nelle ultime ore abbiamo sentito tra Aula e Commissione, che ho capito che non portano bene, quindi eviterò. Ma detto questo, io nella mia modesta carriera politica ho fatto tanta opposizione, capisco bene qual è il gioco delle parti, capisco bene che l'opposizione debba fare l'opposizione, il Governo debba appunto fare il Governo, capisco che le attuali opposizioni siano in grande difficoltà di fronte a un Governo che finalmente fa quello che ha promesso e che malgrado questo, visti i precedenti, continua a crescere nei consensi e quindi capisco che ci sia difficoltà, ma permettetemi, permettetemi, io ieri mi sono trovato, non in imbarazzo, ma mi sono trovato un po' in difficoltà, anche nel vedere quella che una volta era la sinistra, esultare come una curva di stadio per un gol al novantesimo per aver rimandato e per aver bocciato un taglio di 3 miliardi a favore dei redditi medio-bassi che una volta voi vi vantavate di difendere e che oggi evidentemente non valgono neanche la dignità di stare composti al proprio posto. E allora, per tutte queste ragioni, caro Presidente, io ammetto che ieri abbiamo sbagliato, ma per le ragioni che ho appena ricordato, oggi, domani e sempre preferirò essere da questa parte che da quella parte.